Buongiorno gentili telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca e l'ennesimo dramma della solitudine, stavolta a Pesaro, dove in un villino di Viale Trento, vicino alla zona mare, è stato trovato ieri il cadavere di una donna di 61 anni distesa sul letto, con il corpo quasi mumificato. A lanciare l'allarme è una vicina che ha avvertito i carabinieri. Secondo i rilevamenti del medico legale, la morte risalirebbe circa un mese fa, ma evidentemente nessuno l'ha cercata in questo lungo lasso di tempo. Gli inquirenti hanno escluso che si tratti di una morte violenta. In casa c'erano molti farmaci, sembra che la donna abbia un'anziana sorella ricoverata però in ospizio. A cinque anni si allontana da casa lungo la statale adriatica Senigallia e viene ritrovato dalla polizia nei pressi di un vagone abbandonato lungo i binari della ferrovia. A rintracciarlo gli agenti della volante, dopo che alla sala radio del commissariato, tramite personale della polizia ferroviaria di Ancona, era stata segnalata la presenza di un bimbo che camminava o giocava sui binari. E' stata anche disposta la sospensione del traffico sulla linea ferroviaria. Gli agenti innanzitutto hanno accertato che il bambino stesse bene, poi hanno comunicato di ripristinare il traffico dei treni. Il piccolo è stato riaffidato ai genitori originari del sud-est asiatico. E numerosissimi genitori e bambini hanno manifestato ieri pomeriggio davanti alla sede della regione contro le intollerabili attese per le visite cardiologiche e pediatriche a Torrette, il servizio di Manolita Scocco. Io sono la mamma di Francesco Rossi da Acquata del Tronto. Noi siamo in Cuba dal 2020, da quando Francesco è nato a Torrette di Ancona, perché tanti confondono spesso il Salesi, importantissimo, ma che cura un altro tipo di problematiche, con la cardiochivurgia che invece ha a Torrette. E niente, tanti genitori hanno avuto tanti tanti problemi nelle prenotazioni, noi per fortuna abbiamo avuti solo l'anno scorso, poi sono stati risolti nel giro di una quarantina di giorni e adesso siamo in attesa dell'intervento correttivo. Mio figlio è stato salvato appunto perché un medico attentissimo è riuscito a trovare questa cardiopatia importante a dieci anni, però io non posso aspettare due anni. Matteo è un papà di Potenza Picena, papà di? Nicole. Quanti anni ha? Quasi sei anni a novembre. Anche lei ha avuto dei problemi? Sì, noi siamo stati assistiti dal reparto eccellentemente nel 2016, appena lei è nata, una patrocessa, una patrocessa, una patrocessa, una patrocessa, una patrocessa, una patrocessa, per questi tipi di patologie cardiache a livello mondiale. Io invito anche il Presidente, Francesco Acquaroli, magari a imbastire un tavolo di opinioni e sentire anche quello che vuol dire. Presidente, io gli dico di fare un giro nel reparto e vedere quello che si prova. Occhi lucidi ma voce ferma. Dopo quello che hanno passato e che quotidianamente si trovano a gestire, rivendicare il diritto alla salute per i propri figli e per tutti i bambini con problemi al cuore è quasi una passeggiata, quasi appunto perché in gioco c'è il futuro e la speranza. In una settantina di persone, tra genitori e bambini, giunti da tutte le province marchigiane, si sono ritrovati davanti a Palazzo Raffaello ad Ancona per protestare contro le attese per le visite cardiologiche dei bambini. Ad organizzare la manifestazione, l'associazione Un Battito di Ali, guidata da Valentina Felici. Le visite purtroppo ad oggi, con la ricetta normale, quindi programmabili, sono prenotabili nel 2024, aprile 2024. E purtroppo tutt'oggi non sono prenotabili neanche quelle con la priorità, quindi quelle urgenti. Questo è un grave disservizio che abbiamo in questa regione perché abbiamo un'eccellenza e quindi tutti i bambini devono poter accedere alle cure cardiologiche perché se tutte le famiglie devono pagare per poter visitare i propri bambini, il diritto alla salute non è più un diritto ma un privilegio. Nel corso del sit-in è stato l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini ad incontrare i manifestanti, concordando con loro sulla necessità di giungere ad una soluzione. La mia posizione è chiarissima, ho detto ai dirigenti che se non lo fanno si assumono le loro responsabilità con le decisioni che noi dobbiamo assumere. Quindi questi sono un po' gli esami di riparazione per essere chiari. Il problema è certo che mancano i medici, però non si può negare un bambino se mancano i medici o manca la spesa sanitaria. Noi abbiamo delle priorità, quindi per noi i problemi devono essere superati ed è compito delle aziende superarli. Abbiamo visitato l'oncologia pediatrica e quindi non abbiamo problemi a visitare anche la cardiologia. Quindi concordo perfettamente con quanto affermato dall'assessore Pocanzi. Noi abbiamo dato un indirizzo politico, è compito della Giunta, del Governo dare gli indirizzi e è compito del Dipartimento e dell'azienda eseguirli. Risultano stabili e soddisfacenti, anche se ancora in prognosi riservata, le condizioni della bimba di 4 anni ricoverata in rianimazione pediatrica al Salesi di Ancona per politrauma da precipitazione. Lo comunicano gli ospedali riuniti di Ancona. La piccina era stata trovata a terra, ferita nel pomeriggio di domenica 1 maggio dopo essere precipitata dalla finestra di casa al terzo piano di un palazzo in Via Foscolo a Macerata. In seguito è stata fermata la madre, quarantenne, ora piantonata in psichiatria, accusata di aver gettato la figlia dalla finestra. Siamo agli aggiornamenti quotidiani sul Covid. Torna lievemente a crescere dopo alcuni giorni il tasso di incidenza accumulativo su 100.000 abitanti, che si attesta oggi a 796,32 casi settimanali. I nuovi contagiati registrati nelle ultime 24 ore sono stati 2017, con la percentuale di positività al 37,2%. Ancona è la provincia più colpita, con 542 neocontagiati, seguita da Pesaro Urbino con 422. Ed ha destato sconcerto e preoccupazione la tragica morte nei giorni scorsi di Andrea Giommi. Il carabinieri che si è ucciso nella caserma dove prestava servizio a Borgo Santa Maria di Pesaro, lasciando nella disperazione la famiglia e suscitando incredulità tra i colleghi. Una vera e propria piaga, spesso inascoltata, quella dei suicidi tra le forze dell'ordine. L'intervista di Lino Balestra. Pollegioni, il suicidio del carabiniere a Pesaro a Borgo Santa Maria ha riacceso l'attenzione su questo problema, che più che essere un problema sembra essere una piaga, viste le dimensioni del fenomeno. Voglio dire che questo è il continuo di un'escalation di suicidi all'interno delle forze dell'ordine che è arrivato al punto che non può essere inascoltato. Non si può far più far finta di nulla. Dal 2014 al 2021, 31 dicembre 2021, ci sono stati 355 suicidi all'interno delle forze dell'ordine pari a circa 40-50 uomini ogni anno. Dal 2022 ad oggi, 4 mesi, siamo arrivati a circa 18 suicidi all'interno delle forze di polizia. bisogna assolutamente interrompere, questo è lo scopo anche di questo servizio che stiamo facendo adesso, che spero che arrivi all'attenzione delle istituzioni governative, perché è impossibile accettare una situazione del genere. C'è qualcosa che non funziona all'interno delle forze dell'ordine. I numeri sono impressionanti e stride il fatto che agli onori della cronaca questi numeri siano quasi misconosciuti, se non agli addetti ai lavori. Che cosa si può fare in concreto perché questa cosa venga affrontata nel modo giusto? Ci sono delle proposte che si possono fare? Allora, intanto quello che mi lascia meravigliato è il fatto che non sono effettivamente dati sconosciuti, perché i dati che io ho detto in questo momento vengono proprio dall'osservatorio nazionale dei suicidi all'interno delle forze di polizia. Ci sono diverse cose, penso, che si possono fare. Intanto l'istituzione deve muoversi, assolutamente, perché qui ci sono famiglie, figli che ne pagano le conseguenze. Questo è inaccettabile. All'interno dei comparti delle varie forze di polizia c'è bisogno, secondo il mio punto di vista, di una commissione governativa che sia esterna e che funga da controllo in tutto quello che sono le necessità e le situazioni che possono accendersi, perché ce ne sono moltissime. Purtroppo io devo fare una battuta, quella battuta che dice che quando la truppa è in silenzio dare i soldi ai generali. Bene, io inizierei proprio da lì, inizierei proprio dai capi dirigenziali, perché quando succede qualcosa all'interno e non funziona, c'è qualcosa anche che non funziona partendo da lì. Quindi è bene che il governo presti attenzione a questo. Lei ha un importante incarico anche a livello regionale, si sta muovendo in questo senso, ha attivato i suoi canali istituzionali? Allora, io mi sono trovato che siccome c'è questo silenzio istituzionale, da qualche parte bisogna pur partire. E quindi ho deciso di partire dal mio piccolo, sperando che questo messaggio possa raggiungere il più possibile gli organi preposti, anche quelli dei media, anche la stampa che deve aiutarci. Assolutamente sì. Io ho chiesto al Presidente del Consiglio regionale Latini di riaprire il tavolo regionale di cui ho, tra l'altro, la paternità per il comparto sicurezza, dove voglio invitare tutti gli organi delle forze di polizia e trattare questo tema alla presenza di un'istituzione del Governo, perché questo possa anche servire per far arrivare un ulteriore e forte segnale perché si interrompa questo silenzio. La Guardia di Finanza di Urbino ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal GIP del Tribunale per un importo di circa 60.000 euro nei confronti di un imprenditore indagato per evasione fiscale. Il soggetto, titolare di un additto operante nella fabbricazione di mobili per arredo domestico, è stato denunciato per il delitto di omessa dichiarazione per l'anno d'imposta 2014, nonché di distruzione ed occultamento delle scritture contabili, a mezzo del quale avrebbe tentato di impedire la corretta ricostruzione dei redditi conseguiti. La minuziosa attività ispettiva svolta dalle fiamme gialle consentiva di ricostruire i reali guadagni occultati al fisco, consentendo il recupero a tassazione del profitto realizzato. 13 associazioni di proprietari e di volontariato del territorio di Arquata del Tronto hanno scritto al commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini e al sindaco Michele Franchi in vista del Consiglio Comunale di lunedì prossimo, nel corso del quale saranno adottati i piani urbanistici attuativi per le sette frazioni perimetrate di Arquata. Lo scopo è testimoniare ancora una volta il loro impegno per la ricostruzione e il loro pieno appoggio a tutte le iniziative volte ad accelerarla. Pergola, una città bloccata da tre anni, è l'opinione di Antonio Baldelli, consigliere comunale, intervistato per noi da Lino Balestra. Sentiamo. Baldelli, bilancio preventivo del Comune di Pergola è etichettato come amministrazione che non si muove. Perché? Sì, dobbiamo registrare purtroppo una città bloccata ormai da tre anni e questa non è solamente un'affermazione del gruppo di opposizione di Pergola nel cuore, ma è la fotografia che ci restituisce il bilancio di previsione approvato nei giorni scorsi. Un bilancio per la parte della spesa corrente che è l'esatta fotocopia dei bilanci preparati e approvati dalla Presidente Amministrazione Comunale e peraltro assai criticati e d'oggi invece presi a modello. Per quanto invece riguarda la parte degli investimenti dobbiamo registrare l'azzeramento degli investimenti. Partiamo dalla passata amministrazione che aveva lasciato in eredità oltre 9 milioni di opere pubbliche tra opere da mettere in cantiere nell'immediatezza e opere da programmare nel tempo e ci ritroviamo invece con circa 6 milioni di euro indicati in bilancio di cui 5 praticamente relativi ai progetti lasciati in eredità dalla Presidente Amministrazione e bloccati come dicevo da ormai tre anni. Faccio un esempio, il nuovo impianto di pubblica illuminazione a LED che è bloccato da ormai il giugno 2019 che fra l'altro ha comportato gravi danni alla comunità pergolese uno per quanto riguarda interi settori della città lasciati al buio per la mancata manutenzione dell'impianto stesso due a causa dei gravi rincari dell'energia elettrica che i cittadini e il bilancio comunale sta purtroppo scontando per la mancanza dell'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione. Di questi 6 milioni altri due sono relativi ad un finanziamento futuro ed incerto perché l'amministrazione comunale ha previsto la realizzazione di interventi presso la scuola materna e l'assilo nido con un finanziamento che forse sì o forse no verrà erogato dallo Stato in futuro e delle restanti opere pubbliche molte sono finanziate con oneri di urbanizzazione e chi ha fatto l'amministratore pubblico sa che finanziare opere pubbliche con l'introito degli oneri di urbanizzazione equivale a non realizzare queste opere. Accanto a questa incapacità di portare avanti le opere già pronte vi è stata anche l'insipienza dell'attuale amministrazione comunale nel cancellare opere importanti per la città come ad esempio la realizzazione di una nuova caserma dei carabinieri il cui iter amministrativo era giunto ormai al termine tanto che la precedente giunta di Pergola del Cuore aveva ottenuto il nulla osta dal ministero competente tramite la prefettura locale. Con queste prospettive che cosa abbiamo davanti per Pergola nei prossimi anni? Sicuramente questo bilancio non porta nulla di positivo per la nostra città a ciò si aggiunge l'incuria e l'abbandono della città che è sotto gli occhi di tutti. Noi speriamo che questa amministrazione possa ravvedersi e cambiare marce altrimenti la città è appunto in balia di un'amministrazione assente e con sicuramente poca competenza. Un dato che farà riflettere i telespettatori è quello che tutti i capi del settore del comune di Pergola hanno abbandonato il comune o dando le dimissioni per raggiungere altre sedi o addirittura anticipando il proprio pensionamento pur potendo rimanere. E siamo allo sport apriamo con il calcio venerdì si chiude la stagione regolare del campionato di Serie B con Lascoli che al 20.30 riceva il Del Duca la Ternana con la concreta possibilità lo ricordiamo di migliorare ulteriormente la propria posizione nella griglia dei play-off. I bianconeri attualmente settimi in caso di vittoria potrebbero anche raggiungere il quarto posto con tutti i vantaggi del caso. Si preannuncia il pubblico delle grandissime occasioni i biglietti sono in vendita dalle 16 di ieri pomeriggio ed è già iniziata una vera e propria caccia al tagliando. Presentata a Pesaro la Next Gen Cup vera e propria chermessa ad altissimo livello di pallacanestro giovanile la conferenza stampa è stata seguita per noi da Camilla Cataldo. A due anni è dalla prima volta e dopo il successo della recente Coppa Italia dei Grandi torna alla vitrifrigo arena di Pesaro la IBSA Next Gen Cup torneo giovanile tra le formazioni under 19 dei 16 club di Serie A. L'atteso evento si svolgerà dal 5 al 7 maggio con squadre divise in quattro gruppi che si sfidano in un girono all'italiana di sola andata. La prima di ogni raggruppamento accede alle Final Four. La Carpegna Prosciutto Papalini giocherà sempre sul campo centrale e debutterà giovedì 5 alle 19.30 con Napoli. Venerdì 6 i biancorossi se la vedranno con Brescia sempre alle 19.30. Sabato 7 maggio infine WL Trento è in programma alle 15.30. Un appuntamento da non perdere una vetrina unica sul basket del domani. Sì, è una grande opportunità che la Lega ci dà con Next Gen i giovani migliori saranno qua e chi li vorrà vedere giocare dovrà venire a Pesaro quindi è una grande occasione di sport ma anche una grande occasione di visibilità per la nostra città. Del resto il rapporto con la Lega è un rapporto profondo ha portato due volte le final 8 a Pesaro e vogliamo continuare in questa direzione così come vogliamo rafforzare ulteriormente il rapporto con la federazione di basket e siamo molto orgogliosi che il presidente Petrucci abbia accolto tra le tantissime richieste che gli sono arrivate da tutta Italia la proposta di Pesaro di rafforzare ciò che diventerà Casa WL cioè l'impianto intorno alla piscina di Via Togliatti facendolo diventare anche un centro un punto federale per il basket Dove si trovano i biglietti? Quanto costano? E come sta andando la prevendita? La prevendita sta andando abbastanza bene i biglietti si trovano online sul circuito Viva Ticket ma anche presso tutte le rivendite autorizzate ad esempio a Pesaro Prodi Sport è una delle rivendite autorizzate 5 euro per assistere a tutte le 8 partite di ogni giornata e 10 euro per assistere a tutta la manifestazione quindi vuol dire 24 partite penso che sia un segnale importante seguire i giovani seguire tutti i ragazzi ci sono giovani promettenti e ogni poveriggio ci sarà comunque la compagine giovanile della WL quindi sarebbe il caso di fare il tifo anche per la squadra di Pesaro E restando al basket la Virtus Civitanova campionato di Serie B è lieta di annunciare l'ingaggio fino al termine della stagione di Gianmarco Gulini play guardia di 189 cm classe 2002 proveniente dall'Aristo Pro Fabriano di Serie A2 nato ad Urbini il nuovo giocatore bianco-blu cresce cestisticamente nel settore giovanile della Vittoria Libertas Pesaro e vediamo ora le previsioni meteo per mercoledì 4 maggio Amici Trebi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì e ancora una volta manca una vera e propria area di alta pressione sull'Italia e quindi tempo variabile atmosfera instabile tra l'altro quest'area di bassa pressione presente sul Mediterraneo occidentale in qualche modo si avvicina un po' al nostro paese in effetti se controlliamo la nuvolosità vediamo qualche nuvola di passaggio sulle nostre regioni in realtà nubi non particolarmente estese compatte e insistenti non mancheranno ampie schienite ma ripeto atmosfera instabile e in effetti se guardiamo la previsione delle precipitazioni vedremo che nelle ore pomeridiane si formeranno altri acquazzoni soprattutto sulle zone montuose coinvolgendo anche le vicine aree piede montane quindi in definitiva ci attende un mercoledì che parte bene con ampie zone di sereno le temperature infatti riescono anche a superare abbondantemente i 20 gradi però poi nel pomeriggio si formano questi nuovi temporali alpi prealpi anche lungo la dorsale peninica soprattutto quella centro settentrionale andranno a coinvolgere in parte anche le zone piede montane verso il tardo pomeriggio per tutti i dettagli comunque sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo e torniamo al calcio cambio di programma nel campionato di Serie D Girone F per Castelfidardo e Trastevere che hanno anticipato il proprio incontro a sabato 7 maggio con inizio alle 16 e sempre per la Serie D ricordiamo domani in programma il recupero tra Bastogirardi e Le Canatese tappa fondamentale per la squadra giallorossa che ricordiamo guida la classifica con 61 punti 7 di vantaggio sul binomio formato da Trastevere e Tolentino è tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale appuntamento a questa sera Grazie a tutti